papà ma cosa fai ombrellone giochi bimbi tenda per divertimento c'è tutto giubbottino salvataggio per il cane bag watch questi carallini frate sono veramente comodi perché ci metti su tutto questo è un po' piccolino però ormai ha fatto un sacco di chilometri no no si è scassato tutto è una robaccia ho appena detto frate che è carino ma ho fatto la figuraccia in sostanza è molto leggero ha tutti i rivetti dappertutto è veramente veramente una porcheria sto roba qua adesso ristringiamo questa però è carrello economico problemi mi sa che è arrivato il suo momento qua fratello ci riproviamo dai anche se siamo praticamente arrivati alla frutta quasi c'è questo qua ma non sono non sono convinto perché questo qui è praticamente uguale a quello che già abbiamo 100 euro sinceramente che poi si rompa ancora anche no basta se lo compro lo compro fatto bene io ho visto questo penso che mi sa che è arrivato il momento di metterlo dentro adesso non è disponibile appena è disponibile io ordino questo qua perché guarda che figo questo qua questa è una macchina si può togliere il tettuccio si può trainare e spingere ai freni allargare qua le ruote si possono sostituire non ci sono i rivetti come nell'altro è ammortizzato guarda che figata qua c'è anche dentro l'ammortizzatore c'ha tutte le viti quindi è tutto riparabile che è una cosa che è assolutamente arrivata a questo punto voglio li spendo una volta e basta va bene allora compriamo questo dai è arrivato allora bella frate alla fine come hai visto come avrai visto da tutto il casino del video scorso l'ho comprato non ce l'ho fatta e mi sono sentito con fuxtech mi ha riservato un piccolo sconticino e un codice sconto quindi se ti interessa frate trovi il codice sconto in descrizione e ho preso il carrellino anche io andiamo a vedere come diceva mio nonno chi risparmia spreca frate ecco qua allora come vedi il carrello è veramente molto grande pratico e maneggevole allora come vedi frate si trasporta in maniera molto pratica ci siamo spostati di qua per motivi di spazio chiaramente per aprirlo è sufficiente come ti ho fatto vedere svisciare questa e fare questo gesto Iago vieni vieni qua oh oh Iago dai qua 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 dai oh Iago dai bravo se hai un cane svogliato come il nostro la soluzione è questa Iago e comunque chiaramente regolabile questo è anche lui un supportino che non so se può essere tolto o meno ma comunque si apre e si chiude questo qua si apre perché se il cane occupa troppo spazio e la coda non sai dove metterla allora apri qua dietro e lui se ne sta bello comodo qua dentro ok quindi supponiamo una giornata di sole molto caldo qualsiasi cosa tu lo metti in ombra e lui sta bello tranquillo rodi un investimento ringrazio Matteo di 5 in camper che mi ha fatto scoprire questo prodotto perché tramite un suo video sono arrivato a questa azienda che anche a noi come camper in famiglia ha riservato un piccolo sconticino e ci ha rilasciato un codice che tu potrai utilizzare per acquistare il carrello quindi se vuoi frate nel link in descrizione troverai il nostro codice sconto e potrai utilizzarlo per acquistare con un piccolo sconto anche tu se dovessi dare un voto da 1 a 10 a questo carrellino darei un bel 9 e mezzo l'unico mezzo punto che tiro via è il peso ma lì frate se punti alla qualità non puoi puntare al peso anche dagli altri secondo me è apprezzato come vedi frate basta sganciare una due tre quattro tutto de ferro frate questo è de ferro pieno questo è in carrello fatto come se deve hai capito ombrelloni raiette tenda per i bimbi giochi per i bimbi stoi salvaggente per il cane e adesso possiamo andare al mare bella frate con l'altro ti ammazzavi con l'altro rompevi la spalla per portarlo via ma perché secondo me sulle ruote è la ruota è la ruota che fa tutta la differenza è la ruota che lo rende assolutamente un gioiellino da paura detto questo anche Mattia ci saluta anche una matata se ti è piaciuto questo video lasciaci un mi piace se non ti è piaciuto lasciaci un mi piace commenta dici perché non ti è piaciuto fa come te pare fa qualcosa clicca su clicca di qua clicca giù fa come te pare ma fa qualcosa perché a noi ci aiuta e ci fa piacere grazie per aver visto questo video grazie per essere stato con noi ci vediamo alla prossima recensione del prossimo prodotto che acquisteremo bella frate ciao